Il comando del Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Bassanese ha reso noto l'esito delle operazioni di sorveglianza messe in atto durante i mercoledì bassanesi di luglio. Sono stati individuati 7 venditori abusivi ai quali è stata sequestrata la merce con una sanzione complessiva di 35.000 euro e accertate anche 48 violazioni del codice della strada. Questa settimana invece i vigili hanno contestato 13 infrazioni al codice stradale, individuato un venditore abusivo con una sanzione di 5.164 euro e sequestrato merce e sanzionato un pubblico esercizio per attività musicale oltre l'orario consentito.